Dopo la lettera al Governo da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l'unità di crisi ha registrato l'arrivo da parte della Protezione Civile di 71.560 mascherine. Sempre nel pomeriggio di ieri sono arrivate per la prima volta 2.100 tutte protettive. De Luca augura che possa essere l'inizio di un programma più ampio di consegna alla campagna del materiale sanitario necessario. Poi annuncia che è a regime il piano di potenziamento sugli esiti dei tamponi. Come è noto abbiamo avuto nel giro di una settimana, oltre all'annuncio del laboratorio di Codugno, altri nuovi laboratori in tutta la Regione. Entro questo fine settimana ci sarà la possibilità di avere i risultati entro le 24 ore, senza più arretrati. È confermato l'arrivo per lunedì di un primo blocco del milione di kit rapidi che la Regione Campania ha ordinato direttamente ai fornitori cinesi. Questo darà un altro importante aiuto per le verifiche rapide sui casi di pazienti positivi. Proseguono i lavori appaltati alla Regione per realizzare altre strutture ospedaliere, nuove per 120 posti letto Covid. Saranno pronte in due settimane. Sarà un'altra eccellenza campana.